I politici non vanno più in piazza, preferiscono le televisioni per raccontare le loro bugie, mentre io sono qui davanti a voi. In piazza Perosi sabato sera il freddo Alessandrino si faceva sentire per bene, ma Beppe Grillo è comunque riuscito a far uscire di casa per ascoltarlo almeno 5.000 persone. Sul palco prima sono saliti i lavoratori di Aspal che hanno raccontato la situazione della partecipata e subito dopo i rappresentanti delle cooperative, in grande affanno per il ritardo dei pagamenti da parte degli enti pubblici. Poi è arrivato il momento di Grillo. Uscito dalla roulotte con la quale gira per l'Italia, è salito sul palco e ha iniziato il suo lungo monologo, durato quasi un'ora, con dito di battute spiritose e motti di indignazione. Non siamo più un movimento, ma una comunità di persone. Anche l'Italia deve tornare ad essere una comunità. E poi ha spiegato la sua scelta politica. Mi avete dato talmente tanto che voglio contrecambiare e do una parte del mio lavoro a loro, a farmi conoscere, a venire qui. Se lo facessimo tutti, io sono sempre quello. Sono sempre quello che mi ha visto. Sono quello il curioso. Prima che ci fosse il movimento non sono venuto a chiedermi i voti. Non me li date, chi se ne frega. Siete padroni della vostra vita. Ma io ho sempre fatto questo. E poi l'economia. Grillo ha rilanciato il reddito di cittadinanza, la semplificazione fiscale e giuridica, la diminuzione graduale della tassazione e la defiscalizzazione degli investimenti. Ma anche un tetto alle pensioni d'oro e la lotta all'evasione fiscale, con una nuova concezione del lavoro. Fanno i miniatori a 1.300 euro al mese, a 500 metri sotto terra, a prendersi la silicosi a 50 anni per 1.300 euro al mese. E questo è il lavoro? È lavoro quello lì? È lavoro? Ti fai un culo così a far studiare i tuoi figli? Fali prendere una laurea, il master, il triennio? O se ne vanno? Perché se rimangono qua, devono fare il lavoro. Quale? Andare in un call center a 500 euro al mese che ci vanno i figli della Fornero a fare quel lavoro lì? Basta. Basta. Non è vero. Il lavoro dovremmo reinventarci. Dobbiamo reinventarci. Dobbiamo fare un sogno. E questo sogno sta diventando un sogno condiviso. Da un pazzo come me, da un pazzo come Casaleggio, che 6-7 anni fa abbiamo detto facciamo un movimento, apriamo un blog, mettiamo le intelligenze della rete su un problema. Infine Alessandria, città dissestata. Non potevamo non chiedere un commento su ciò che da mesi accade in questa città. E così, appena sceso dal suo camper, gli abbiamo posto la questione. Ecco che cosa ci ha risposto. Alessandria, su questa cosa città dissesta. Buonasera signora. Ci sono le partecipate che protestano da primato? Perché siete gli unici, almeno in una cosa avete un primato. Ci sono i dipendenti delle partecipate che stanno per andare a casa? Sta crollando il sistema, sta crollando qui e comincerà ad Alessandria, ma tutte le città dove vado, anche se non sono in dissesto dichiarato, sono indebitate. Persino i dipendenti pubblici. Ma assolutamente, perché i sindaci hanno fatto gli amministratori delegati di una SPA, non di un comune. Quindi bisogna ricambiare generazione, mettere le persone per bene al posto di questa gente qua, onesti al posto dei partiti. Onesti.